In danza e in arte raddoppia. Il campus di danza della città di Arezzo è infatti pronto a rinnovare il proprio format e giunto alla dodicesima edizione verrà arricchito dall'organizzazione di un vero e proprio festival che permetterà di assistere agli spettacoli di compagnie e danzatori di spessore internazionale. La rassegna in programma da sabato 20 a domenica 28 luglio, collezioni in tutte le discipline della danza, la consegna di borse di studio per accademie e l'audizione per il secondo anno del progetto CAB Collettivo Arezzo Ballet. Sarà aperto ovviamente agli allievi dai 16 anni in su, proveremo ovviamente a formare un'altra classe del collettivo e portare avanti questo progetto che è ormai una delle nostre missioni più importanti come associazione di progetti per la danza. Il collettivo Arezzo Ballet riunisce una selezione di ballerini e ballerine da tutta Italia a cui l'associazione Progetti per la Danza sta proponendo un percorso di crescita professionale. La nostra ambizione è sicuramente quella di portare avanti un gruppo di ragazzi che abbiano voglia di studiare e che sia questo poi nella loro formazione e soprattutto nella loro vita, cioè proprio il loro intento quello di diventare dei ballerini. Cercheremo di dargli il più possibile, quindi dall'aspetto didattico e formativo ovviamente è fondamentale affinché loro abbiano tutti i requisiti necessari per poter poi affrontare audizioni, provini, partecipare a casting e poi far parte comunque di un collettivo è un'esperienza formativa in tutti i sensi.